Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe Gamer e benvenuti in questo nuovo video di GTA 5 Online Mi avete da ridere perché ragazzi, questi siete voi, davvero in tanti Finalmente possiamo giocare insieme un po' su GTA, da un po' che non lo prendevo Ma voglio sapere come cazzo si fa procedere Go, ma go cosa? Dove? Perché tutti si lanciano in questa maniera? Guardate lì, ma perché vi lanciate? Oh, lui si è accappottato davanti a me Bro, ma che cazzo mi combini? Vabbè, lanciamoci anche noi Oh, non ti accappottare, però riprenditi Ma sono l'unico che è caduto in piedi qua Arme abilitate? Oh, che cazzo mi combini? Ragazzi non ci credo, ma mi ha buttato giù Oh, sei mio No, si sono messi gli altri davanti, cavolo Oh, cos'è? Non mi mettete sotto Ma cosa? Non cadere, non cadere ti prego, no Sono l'unico che è rimasto senza quad? Mi sa di sì, ma perché? Mi sento... Oh, mi hai messo sotto, guardate la faccia Non posso crederci ragazzi, mi sono sentito completamente preso in giro Non so cosa diavolo sta succedendo qui Mamma mia, stavo per cadere Allora, spostati i quad del cavolo Gente che si lancia di sotto Non so davvero cosa diavolo sia successo Ma perché? Ma mi ha colpito qualcuno Non dovete toccarmi, sciocchi Avanziamo Forse ora possiamo provare ad avanzare Ma sti quad davvero sono strani, grande Oh, che cazzo ho fatto? Ma perché mi cade giù? Ma che cazzo è? Mamma mia, esplosioni ovunque Muoviamoci, dobbiamo toglierci da qua È un luogo troppo rischioso Addirittura gente in fiamme c'è qui Allora, avanza Ecco qui, così Finalmente Un altro giro Oh mamma, oh mamma Ancora sta batteria del Dualshock Che si sta scaricando Non è possibile Ecco qui, altre persone Spostatevi Prima che mi spari No, lo sapevo Proviamo ad avanzare ora, eh Spero solo che non ho qualcuno alle spalle Che mi sta sparando Oh bro Ma che cavolo fai? Non vedi che Oh, ti sei fatto mettere sotto E mi hai fatto anche cadere Proviamo adesso, eh Dovremmo farcela Credo che ormai siano tutti avanti Quindi non dovremmo avere problemi Allora Credo che Ecco Sesta posizione Ho fatto un salto troppo lungo No, ma non è possibile Oh mamma mia Guardate quello che è caduto Ma poverino Oh, ancora le calcagne alle spalle Persone che mi Mi stanno colpendo Mamma mia Si è lanciato il tizio Mi dispiace bro Ma non sono riuscito In qualche modo a salvarti Siamo in nona posizione Direzione sbagliata Ma come? Ma come direzione sbagliata? Dove cazzo devo andare qua? Aspetta, aspetta C'è gente qui Adesso tocca a me colpirvi Oh mamma mia Perché non ha colpito? Forse devo premere altri tasti Mamma mia Esplosione alle spalle Sono appena rientrato Perché mi hanno fatto esplodere Ragazzi Siete davvero cattivi con me Cavolo Vediamo Posso colpire in qualche modo Sto premendo tutti i tasti Aspetta Forse qualcuno l'ho colpito Io Possibile What the fuck Non so cosa stia succedendo Guardate il mio quad Che è già in fiamme Vediamo se posso continuare Ad avanzare Sono in dodicesima No aspetta Cos'è? Vediamo se ora posso avanzare Senza problemi Ancora che mi lancio troppo veloce Porca misericcia Allora Forse devo lanciarmi In quella zona inferiore Vediamo un po' Prova a lanciarti di qua Cosa è stato? Che cazzo hai fatto bro? Ho capito dove devo dirigermi Peccato che ci sia già la canzone di sottofondo Che mi fa capire che la partita sta per finire Sì Ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Purtroppo nulla da fare Non è arrivato E siamo stati trollati alla grande Ovviamente ragazzoli Ci facciamo un'altra partitozza Ed eccoci pronti per affrontare una gara senza collisioni Questa volta Sulle motociclette Quindi Ci sono rampe come al solito Per fortuna ragazzi Non ci sono collisioni Perché davvero altrimenti avrei sclerato come prima Quindi Uno Go Si parte Devo arrivare in prima posizione stavolta Non voglio sapere nulla Come faccio Ad avanzare? Oh mamma mia Sono secondo? No sono primo Fermo 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 no Ah si dovevo scendere Ok Scusatemi ragazzi ma Mi faccio prendere troppo dal panico Allora Credo suppongo che bisogna salire Ok Ragazzi se arrivo primo Faccio un urlo Ma poi perché urlare? Se arrivo in prima posizione Vabbè non importa Cerchiamo di superare queste difficoltà insieme No Cazzo Porca miseria Non so se posso poi risalire una volta arrivato lassù Ho deciso di respawnare Forse questa è la volta buona Siamo in prima posizione ancora ora Quindi ragazzi Forse è la volta buona Che ci prendiamo una vittoria E ce la portiamo a casa Vediamo se riusciamo No Porca miseria No Non devo accappottarmi Ci sono Si Oh cazzo Come faccio ad avanzare? Mantieniti Bro Non cadere Ti prego avanza Ti prego non cadere È quasi impossibile Vabbè basta tenere comunque L'analogico sinistro fermo E si va avanti Che è una bellezza Forza Come faccio a lanciarmi? No 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 Sto cadendo Che culo amici Che culo Sono morto Proviamo adesso in qualche modo Credo si Di aver comunque preso No Sono caduto di nuovo Vediamo se ora ce la facciamo Per fortuna come stavo dicendo Abbiamo preso il fottutissimo Cosoli Il checkpoint Ora Vai No non ti incastrare Bro Mi sono incastrato Non ci posso credere Bro Devi sbloccarti Non morire Mi sa che prima mi son beccato Una ringhiera dietro la schiena Si sarà fatto male Vediamo se ce la facciamo Si Ottimo ragazzi miei Ottimo Che si fa però Continuare a scendere di qua Mi sa di si Oh perché mi sono incastrato Sto bastardo Colui che ha creato sta mappa Ce li ha messe apposta Questi cosi Come cazzo faccio a scendere Non morire bro Ti prego Forza bro Ti voglio molto più riattivo E vabbè Mi sono lanciato Però va benissimo comunque Così ti voglio Vai che avanziamo Cos'è Roba che esplode questa Mi sa di si Allora una rampa Mi sa che sono andato troppo oltre Mi sa di si cavolo Però aspetta aspetta Posso comunque prendere questo qui Per fortuna sono respawnato Nella zona in cui volevo Quindi Tra virgolette Siamo stati fortunati Poi Per qui il percorso Sembra ancora standard Ecco Non sono nemmeno riuscito A finire la frase Che mi sono dovuto ricredere Siamo in quarta posizione Vediamo se riusciamo Ad almeno A raggiungere la terza In modo da Arrivare sul podio Non mi cadere No Porca miseria Vai che avanziamo Porca miseria ancora Procediamo pian pianino Eh bro Forza Eh si Ce la facciamo Benissimo Che figata assurda Ragazzi Oh cazzo Che devo fare qua Però forse Posso riscendere Infatti Oh cazzo Cazzo Fermo Fermo Ma perché si lancia ogni testa Vuole attutire la caduta Vediamo adesso se va bene Attenzione Sì così ti voglio Bro Molto più prestante E veloce Ce l'abbiamo fatta Oh cazzo Ho dato una testata Vicino all'insegna Qui Sì si scende ragazzi Ottimo Finalmente ci siamo sbloccati Un po' da quella Fottutissima situazione Dobbiamo avere un po' Più di concentrazione Allora Oh mamma mia Mi sono lanciato male Cavolo Riproviamoci ovviamente Vai Sali qui Vabbè Qua per fortuna Lo spazio c'è Quindi Non dovremmo avere Grossi problemi Ecco sta curva Come cazzo la faccio Come direzione sbagliata Ma che mi trolli Anche il gioco mi trolla Ora Allora Proviamo pian pianino No No Cazzo Forse ora posso farcela Sì Bene Sono riuscito a salire qui E ora È il tentativo superiore Sì Ce l'abbiamo fatta Ecco il finale Joseph Gamer Ce la fa Spero che questo videozzo Vi sia piaciuto E vi ricordo di lasciare Un bel mi piace E di iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto Quindi ragazzi Io vi saluto E alla prossima Ciao